Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. In centro sono in corso due sit-in che durante la mattina potranno avere ripercussioni sulla viabilità. Il primo in via Molise sino alle 14 davanti agli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È chiusa via di San Basilio, al momento sono deviate le linee bus 61, 62, 85, 492 e 590, percorrono via Bissolati e via Veneto. Il secondo sit-in della mattina è in via Flavia, vicino al Ministero del Lavoro. Anche in questo caso i vieti di sosta sono già in vigore nella zona. E in via Gallia sono iniziate questa mattina le potature che proseguiranno sino al 24 febbraio. Possibili rallentamenti potranno coinvolgere in questi giorni nelle ore di potatura le linee 218 e 665. Rinviate a domani invece le potature in via Romentana. Oggi si circola senza limitazioni tra Corso Trieste e Viale 21 Aprile. Da domani in questo tratto riprenderanno potature e chiusura al traffico. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.